L'approvazione del bilancio avvenuto a metà luglio consente anche di fronteggiare la sempre critica situazione in cui verse il cimitero di Sciacca, legata alla carenza di personale e al fatto che i servizi di pulizia non rientrano nel piano aro a suo tempo approntato, scaduto e al momento in fase di proroga. E' in corso un intervento straordinario di scerbatura del cimitero comunale, operai sono all'opera con attrezzature meccaniche lungo i viali del cimitero per la rimozione delle sterpaglie. L'intervento di scerbatura, pulizia dei viali, raccolta e smaltimento dello scerbato e dei rifiuti vegetali è stato affidato ad una ditta esterna, evidenzia l'assessore Fabio Leonte, annunciando che sono previste ulteriori migliorie per il cimitero di Sciacca con i 100 mila euro inseriti nel bilancio comunale. Finalmente si sta intervenendo per dare decoro all'aria invasa da sterpaglie e rifiuti nonostante i contenitori collocati. C'è poi sempre la questione delle barre a deposito che si sta cercando di fronteggiare anche con il bando predisposto e in fase di pubblicazione per la realizzazione di una sessantina di loculi in attesa del più corposo intervento per il quale l'assessore Leonte si è impegnato al punto da prospettare anche sue demissioni in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo. C'è tanto da fare al cimitero di Sciacca dopo anni e anni di incuria ma ci sono poi problematiche incomprensibili e inaccettabili come quella di non riuscire a garantire che l'acqua furiesca regolarmente dai diversi punti di approvvigionamento. Era già successo la scorsa settimana che il cimitero fosse a secco, poi è arrivata l'autobot, ma mercoledì dalle fontanelle non fuoriusciva una sola goccia di acqua. Avevo dato disposizione per un rifornimento puntuale tramite autobot, verificherò le ragioni del mancato rispetto, commenta Fabio Leonte.